buonasera a tutti e benvenuti alla night session di giovedì 21 settembre sono le 22 e 42 e torneremo a parlare di bitcoin e del suo andamento con l'analisi evoluta analisi che è evoluta marchio registrato allora che cosa è successo è successo che se aveste seguito la precedente analisi avevo segnalato che era importante mettere un allarme sotto questo minimo a 26.804 dollari perché in caso di violazione prima dell'avanti e quattresima barra saremo andati short che cosa è successo diciannavesima barra siamo entrati short e ho iniziato anche nel gruppo premium ok a parte i future usa e la disoccupazione del 14 e 30 che non hanno assolutamente influito su nulla ho segnalato che il primo target era la media mobile a 200 periodi e quindi un doppio minimo ed era appunto 26.666 dollari perfetto e in ventiquattresima barra abbiamo iniziato inserito un take profit e seguire in trailing e poi è arrivato l'uomo con la valigetta e dovevamo decidere che cosa ancora fare il target minimo è stato appunto fatto e inserito il take profit e segnalato già di nuovo un altro gain ovvero siamo qui devo ritornare indietro devo sommare anche le altre siamo a sei operazioni in gain su sette senza contare il tecnica 2 ok il paper trading ho segnalato poi che un altro target assolutamente fattibile era 26.516 26.516 direi che dato che siamo arrivati a 26.412 dollari è stato raggiunto anch'esso giusto eccolo qua segnalato tra l'altro alle 15 e 13 e fatto alle 15 e 34 ok a quel punto di nuovo spostato il take profit portato a casa dei bei soldini questo grazie a un semplice utilizzo di quello che è l'analisi evoluta semplicissimo classico vincolo prima della ventitresima ventiquattresima barra in questo momento però mi sorgono immediatamente dei dubbi perché abbiamo guadagnato ok volevo anche iniziare a dare un long ma con questa discesa così forte sia a livello di volumi che a livello di dove siamo arrivati perché siamo andati sotto la media mobile a 200 periodi siamo andati a violare tanti swing il dubbio che si possa ritornare sopra questo massimo si è immediatamente acceso ma proprio radicalmente anche perché perché su ethereum esattamente dopo aver raggiunto il massimo che come minimo andava fatto per chiudere non soltanto il trimestrale inverso ma anche il semestrale di inverso abbiamo iniziato immediatamente a scendere come da analisi abbiamo fatto questa candela intermedia che però non ha superato il massimo a 1669 dollari e 43 e siamo solo scesi tra l'altro andando già a violare degli swing interessanti per questo su bitcoin sto iniziando a chiedere di cercare una centratura alternativa in cui qui si chiuda tutto qui si chiuda tutto il trimestrale di inverso e se andiamo a guardare i giorni 1 2 3 anzi giusto no sto sbagliando qualcosa si sabato 16 da sabato 16 a martedì 9 sono tre giorni per cui 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 ok torna sul daily abbiamo avuto un massimo assoluto superiore rispetto a questo massimo fatto il 18 vi ricordate quella candela verde rossa di cui avevo parlato l'abbiamo fatto su tutti gli exchange un superamento di questo massimo 27 452 dollari oppure non è stato fatto sui maggiori exchange perché se questo grafico di Bitfinex che nonostante tutte le cose che si possono dire comunque permette di lavorare meglio che su tantissime altre cose soprattutto sui grafici di exchange aggregati perché ne includono alcuni che sono troppo poco utilizzati io ho questo dubbio che da qui in realtà dato che non c'è un fix in su bitcoin mannaggia la miseria non si siano superati i massimo non si è stato superato questo massimo e appunto si è iniziato un t-3 inverso che va fatto secondo t-3 inverso terzo e che si sia al quarto t-3 inverso e che qui si sia chiuso il trimestrale inverso oltretutto il minimo che ci serve per andare a giustificare un movimento eventuale di questo tipo che cos'è? cioè qui abbiamo già un vincolo che aspita con quante barre sotto questo massimo solo 27 questi massimi non mi convincono per cui sono in estrema allerta qui abbiamo già iniziato a scendere bene abbiamo perso come detto la media mobile di nuovo c'è qualcosa che non mi quadra ok? se ritornando alla nostra centratura quella più probabile è quando siamo arrivati a fare la candela verde sul giornaliero ascoltate bene questa parte riprenderemo rapidamente quota avremo ancora la possibilità di ritornare sui massimi ok? e verrà confermato quello che vi dicevo sì sì tutta la discesa che volete ma nella realtà dei fatti fatta è questa discesa siamo ancora abbiamo ancora la possibilità di fare dei massimi prima di tornare veramente prima di iniziare seriamente a scendere ok? anche se questa è stata un'ottima discesa un ottimo gain tra le altre cose perché un raccordo è infido una finta a ribasso con rialzo è infima e sui sui sulle criptovalute fa delle cose che mediamente non fa a livello di forma ciclica sugli indici e poi anche adesso gli indici stanno iniziando a fare questi cicli che possiamo definire anche cicli motori che sono cicli che non rispettano le regole della vecchia ciclica un ciclo che si vincola a ribasso un ciclo che si vincola a ribasso se parliamo di inversi che fa un baffo ok? non dovrebbe fare un determinato movimento sul secondo T-4 inverso e qui l'ha appena fatto con questa spike tra l'altro anche questa spike chiederò che venga controllata per vedere se ha violato tutti questi minimi perché è fondamentale anche questo ok? qui su Bitfinex li ha violati ed è un campanello d'allarme grosso perché si rischia se non si riparte rapidamente a recuperare media mobile a 200 periodi media mobile in rosso e poi i livelli dell'accumo si rischia di non riuscire a ritornare qui sopra solo che come già detto se vogliono fare anche soltanto un accordo inverso tra un trimestrale e un trimestrale basta un T inverso ecco il candidato maggiore anche se sarebbe stato comodo andare a chiudere qua non avere la candela verde e tutto il resto ma noi dobbiamo lavorare con il grafico non con quello che sarebbe comodo non comodo o altro a noi questo non interessa non ci interessano queste cose come le opinioni per questo motivo che cosa facciamo quindi? visto un campanello d'allarme grosso che ci dice attenzione perché potremmo anche non ritornare sui massimi ok? perché questa spike è stata un po' forte ma allora le vedo sui cicli le abbiamo viste tante volte sui cicli di bitcoin però non posso non avvisare di quello che vedo ok? in ogni caso che cosa facciamo? semplicemente invece che prendere posizioni a medio periodo e tutte queste cose qua ritorniamo a quelle che sono le regole senza dare alcuna opinione ok? quindi qui mettiamo primo punto di domanda ce l'abbiamo almeno per quanto riguarda il tempo però il nono t-3 è possibile che sia ancora in essere? siamo a 33 barre barra 34 sì è possibile che sia ancora in essere perché può essere ancora in vita potrà rimanere in vita fino a che ora? fino alla 44esima barre fino quindi alle 5 45 non è detto che da qua sia partito un nuovo t-3 facciamo così anzi preferisco ancora di più rende ancora meglio l'idea prima cosa quindi lato indice risolta mettiamoci quindi un allarme a 26.412 dollari 26 412 dollari ok anche perché notiamo anche un'altra cosa che il t settimanale iniziato là sotto adesso ha trovato la condizione necessaria e sufficiente con gli ultimi 2 t-3 di chiudere e far partire un nuovo settimanale ok? è per quello che se iniziassimo ad avere la spinta che vi dicevo per tornare sopra le medie mobili tutto a posto confermata la candela verde l'ipotesi con la candela verde giornaliere e tutto il resto andatevela a vedere quel video è semplicemente perfetto per imparare i cicli per imparare tutti i ragionamenti che vanno fatti ed è gratuito ancora dovrebbe essere messo nella playlist trading days è un'analisi completa senza filtri senza cose particolari quelle che faccio sul gruppo premium per quanto riguarda l'inverso abbiamo quinto t-3 inverso serenamente sesto t-3 inverso anche se ci sono sempre tante opportunità ok? e qua arriviamo a 31 barre vogliamo prendere qualche cosa di differente fino a qua arriviamo a 50 barre no non va bene vogliamo chiuderlo qui non è il massimo sinceramente come chiusura quindi mi tengo questa centratura sereno sereno arrivo fino a qua siamo a 31 barre potremmo ancora essere sul sesto t-3 inverso fino alla 44esima barre ok? anche in questo caso fino alle 4 e un quarto di questa mattina però e attenzione dopo che cosa dice la gente solitamente dopo il però o il ma perché che racconta quello che vuole davvero raccontare è un trucco di comunicazione 1 2 3 4 5 candele sotto un massimo ci raccontano che da qui può essere iniziato un settimo t-3 inverso anche perché c'è stata un'uncinata quella che serve per chiudere il sesto t-3 inverso a questo punto un altro allarme va messo qui sopra a 26.710 dollari 26.710 dollari 26.710 vedete ok? significa che effettivamente avete qualcuno che fa davvero trading non che racconta solo analisi come vedete anche questo a 26.516 era il target che avevo dato con creato alle 15.12 e con l'attivazione alle 15.33 giusto per darvi un'idea ok? adesso cancelliamolo perché se no abbiamo questo era quello per il long del DAX è andato estremamente bene estremamente rapidamente abbiamo fatto 30 ticking scalpata schioccando le dita ah questo era l'altro giusto? dunque target fatto sì il 26.666 perfetto l'altro che avevo segnalato come vedete non sono sono allarmi reali di trading view e non sono bubole o file modificati con photoshop ok? perché vediamo anche quello purtroppo con questi due allarmi abbiamo già un'idea di cosa ci può aspettare di che cosa possiamo vedere e abbiamo chiuso oltretutto il movimento come al solito in un trading range cos'altro raccontarvi? ok vediamo se tiene questo minimum e se spingiamo verso l'alto e se ritorniamo come da programma originario sopra questi top perché questo era il programma originario solo che gli allarmi sono scattati nella mia testa appena ho visto una discesa più forte del previsto e come di consueto proviamo a confutare quello che è il piano principale quello che è l'aspettativa principale in modo da essere preparati in qualsiasi momento ad adeguarci al prezzo che farà bitcoin perché? perché una strada principale la conosciamo finta ribassa risalita ok raccordo inverso di che può essere di due gradi o tra un t più 3 inverso e un nuovo t più 3 inverso o tra un t più 4 inverso e un altro t più 4 inverso ma qui con questo minimo da controllare rispetto a questi altri minimi è scattato un allarme discesa e quindi vado a ricontrollare ancora una volta tutta la centratura a partire da questo massimo che richiederò di nuovo al gruppo premium che venga controllato se è stato superiore a questo nella maggior parte anzi non nella maggior parte degli exchange sugli exchange principali coinbase eccetera eccetera e a quel punto ragioneremo di che cosa ci aspetta ma questi sono i due allarmi dopo il gain che abbiamo fatto tra l'altro ho notato che sul canale di investimenti BNP Paribas dove c'è House of Trading con la puntata del trasmessa 9 giorni fa quindi non con quella più recente dove ho raccontato anche di qual'era il grafico di Bitcoin a livello daily siamo andati a fare più visualizzazioni che mai 4588 non sono mai state fatte in precedenza 2006 3200 2100 2100 2005 3002 quando ho fatto l'ultima prima di ripartire poi a settembre a luglio due mesi fa come vedete siamo sempre stati ad un certo livello siamo andati a oltre 4500 visualizzazioni e vediamo che cosa succede se la gente avrà piacere di guardare con attenzione quello che è stato raccontato in questa puntata di House of Trading l'ultima registrata qualche giorno fa due giorni fa anche perché i due trade dati sono dati entrambi in gain sia su Nasdaq che su Or e non è stato toccato lo stop loss anche se ribadisco che su House of Trading è molto più difficile impostare dei trade non è facile come invece lo si fa quando si può vedere tutto il grafico su House of Trading sono obbligato a dare per il gioco per le regole del gioco delle operazioni a un'ora e mezza da quando poi ne parliamo infatti quella su Nasdaq l'ho dovuta cambiare al volo perché avevamo avuto una discesa troppo forte dovevo cambiare i livelli di ingresso i livelli di stop loss i livelli di target per l'eventuale rimbalzo che poi è arrivato potete controllare tutto live ok esattamente come chiunque entra nel gruppo premium può controllare che questi siano gain reali che queste siano operazioni reali ma per carità vi ho dato tutte le indicazioni nel precedente video che appunto avete potuto vedere tutti serenamente appunto 11 ore fa per cui più facile di così si muove guardiamo bene Ethereum controlliamo le differenze tra Ethereum e Bitcoin e vediamo effettivamente che cosa ci raccontano qui abbiamo avuto ovviamente una discesa molto più forte rispetto a Bitcoin con una violazione di swing nettamente superiore anche se siamo soltanto alla terza barra che ci dice almeno partito che cosa un T-1 inverso fa partire un B settimanale inverso ok e sappiamo bene quali possono essere purtroppo i target ok dire che è tutto vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata almeno sarà sicuramente perché oggi ho ricevuto una notizia fenomenale finalmente in Italia arriva purtroppo non doppiato ma solo sottotitolato un altro gioiello orientale ovvero I Saw The Devil visto tantissimo anni fa perché il film è nel 2010 ma è un thriller veramente a tinte forti che suggerisco a tutti di andare poi a trovare come al solito tra le start up di Cechigori è un video CG Entertainment la nuova CG Entertainment consigliato soltanto però ai palati forti ok direi che è tutto vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata arrivederci